Benvenuti nel mio canale, siamo di nuovo con voi per le notizie da tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere informato di tali più velocemente non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Afsanor Sankaktutan e Karen Bursin Protagonisti. È arrivato il primo trailer della serie Jakok Seversen. È arrivato il primo trailer della serie Jakok Seversen, che si appresta ad apparire davanti al pubblico sugli schermi di Canal D. Annunciata anche la data di trasmissione della serie con Afsanor Sankatutan e Karen Bursin. Con le finali della serie stagionale, le serie estive hanno iniziato a prendere il loro posto sugli schermi. I canali hanno iniziato ad annunciare le loro serie estive. La nuova serie di Canal D Jakok Seversen suona come una bomba. Il conto alla rovescia è iniziato per la serie con protagonisti Afsanor Sankatutan e Karen Bursin. Anche l'armonia dei ruoli principali ha attirato l'attenzione. Ali Bilgin siede sulla sedia da regista dell'attesissima serie. Kubra Sulun si occupa della sceneggiatura della serie. Il primo trailer è venuto dalla serie sull'intersezione dei percorsi di Ates, che è cresciuta in un collegio dopo la morte della madre e ha cercato di aggrapparsi alla vita all'estero, e Leila, che ha fatto soldi ingannando le persone. E se ami così tanto quando inizia. La serie Jakok Seversen, che ha attirato grande attenzione con la sua prima presentazione, inizierà a essere trasmessa giovedì 6 luglio 2023. Lancio Nel cast della serie con protagonisti Karen Bursin e Afsanor Sankatutan, nomi come Atice Aslan, Seri Ferrol, Cemre e Buzia, Nasmi K.R.K., Aziz Kaner Inan, Mine K.L., Ulkan Arman Uslu, Durkan Celikaya, Lara Pera Aslan, Osgun Akaka, e Adin Kulce si trova. Cosa ne pensi della nuova serie di Karen Bursin e Afsanor Sankatutan e se ti piacesse così tanto? Cosa ne pensi di questo video? Non dimenticare di dirci i tuoi pensieri nei commenti. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ciao e ci vediamo al prossimo video.